Sono soldi ma non si vedono il concetto della moneta virtuale, i bitcoin. Se sia l'inizio di una bolla speculativa o una rivoluzione, forse è presto per dirla. Intanto cerchiamo di capire che cosa sono e come funzionano. In quel mare magnum mondiale che è internet sta succedendo un fenomeno straordinario. Stanno nascendo delle monete virtuali. Quindi, attenzione, non parliamo di sistemi elettronici di trasferimento di denaro o di pagamento come Paypal. Si tratta di nuove valute, dai nomi mai sentiti che si stanno affiancando nei siti di commercio elettronico all'euro, al dollaro e compagnia bella. Attualmente ne circolano otto di queste monete virtuali, ma la prima, la più famosa, si chiama bitcoin. Il simbolo è una B con due stanghette. Il concetto di moneta virtuale, che fisicamente non esiste, quella che vi abbiamo mostrato è un facsimile, quasi un gioco, è talmente complesso che non si può spiegare in pochi minuti. Immaginate però che una comunità, che un villaggio, decida di adottare, oltre alla valuta legale, una nuova moneta scambiabile solo tra i loro abitanti. È successo spesso nella storia, anche recente. Ebbene, nel nostro caso, la comunità degli utenti è formata da tutti coloro che, scaricando un programma gratuito sul loro computer, decidono di connettersi via internet. Pian piano si è quindi formato un villaggio virtuale mondiale, che rischia di avere più abitanti di molte piccole nazioni in carne ed ossa. La creazione di questa moneta, nata tre anni fa da un gruppo di informatici anonimi, che si nascondono sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, viene fatta da coloro che hanno i computer più potenti, ogni dieci minuti, col conio virtuale di lotti di varie dimensioni. I bitcoin attualmente in circolazione sono circa 12 milioni e ne verranno creati fino a raggiungerne 21 milioni. Possiamo dire che circa nel 2017 verranno generati i tre quarti dell'offerta. La sicurezza di tutto il sistema è garantita da sistemi di criptografia, per intenderci un meccanismo simile, ma incredibilmente più sofisticato, di quello che i tedeschi usavano nella Seconda Guerra Mondiale per mandarsi messaggi segreti con delle speciali macchine. In giro per il mondo i bitcoin cominciano ad essere accettati da siti di vendita online, tipo Amazon, ma anche da alberghi, palestre, negozi. Il pagamento si può fare infatti via computer, ma anche col telefonino, facendo una foto al logo della persona che deve ricevere i soldi. In Italia 15 esercizi accettano bitcoin, come ad esempio questa birreria romana che ogni giovedì attira i pionieri della nuova moneta. Le transazioni che abbiamo avuto sono state circa una ventina ogni giovedì, perché noi abbiamo iniziato questa cosa solo il giovedì. Quindi ogni giovedì avvenivano una ventina di transazioni. I pagatori col bitcoin sono persone che all'inizio la maggior parte sono informatici o come diciamo piccoli nerd. Piano piano adesso che si sta iniziando a pubblicizzare molto di più questo bitcoin, diciamo si stanno iniziando a conoscere molto di più, sono anche persone, ragazzi, soprattutto ragazzi, che comunque iniziano a conoscere questo bitcoin e iniziano a provare, a vedere, di pagare. Invece che girare con la carta di credito si inizia a pagare col telefono. Per come è stata costruita questa valuta, in teoria non può avere inflazione, ma ha il difetto di essere molto volatile. Oggi un bitcoin vale oltre 1000 dollari e inizio novembre ne valeva 215. Idem col cambio in euro, il che la rende appetibile agli speculatori e, dicono i detrattori, anche a chi vuole riciclare denaro. Detto questo, i casi sono due. Questa moneta, senza banca centrale, svincolata da ogni controllo anarchica ed autoregolata, o è una colossale e sofisticata truffa che farà piangere in molti oppure avrà un impatto talmente rivoluzionario sulla società e l'economia da diventare il punto di svolta del XXI secolo.